Coincidendo che è il giorno del groundbreaking di un progetto di hospital nuovo, ma come ho detto che il collega membro di un fraccio di AVP mi ha dedicato pari parole a me, per riferire il collega Mervin Vajderas, mi ha andato a questionare di come mi stanno questionando tanto il progetto di hospital. In primo lugar, se in un dato momento la fraccia di AVP non sta mirando tanto problema quel progetto tan questionare di hospital, mi chiede ripetere le parole come a expresare dirigendo il leader di un fraccio di AVP. Mi sta reta il partito di AVP, la fraccia di AVP va sostenere, approbare e l'enquesta parlamentare con la fraccia di Mervin Vajderas pidendo il progetto di hospital. Da fuor di 7 di febriare, no sa pidi il riunione pubblico di hospital, il riunione pubblico di hospital, passina, no sa vai entregare mozione pa' parlamento di Aruba, approbare l'enquesta parlamentare, pa' vai investigare, gentile il processo di destaggio pubblico, e betfixen con lo sa vai comprobar l'enquesta parlamentare, qua tommo il luogo del progetto di hospital. No sa pidi pa' soga manda al Parlamento, scoren shit, pa' nos colegas miembro di fraccio di AVP por lesse. No sa pidi soga pa' manda e contracte con la firma, co' Arellano, passina, colegas nan e contracte a nos notin, però, però, per tassina, tu miembro di Parlamento por lesse. Ora, con dado momento, voti un processo di destaggio pubblico, co' onda che comissione di evaluazione, ma sterta neutral, non porti un prejuicio, non porti un vor ordel. Ora, con lo stende presidente di soga del Parlamento, che non ha di un riunione di bencomsbisa, en que la questione ma stera ni considera, è francesna con la sali, è l'osbet, anto bota punta al bomes, voti un prejuicio, un da buoneutralità e buobjetività, ma stera che da, un evaluazione con un luogo, entre dos companià, e differenza, entre non, tata minimo, e si notata pa, è betfax in con un luogo, riba dos scoren, è francesna, correctamente, pa sobranà a sali, è l'osbet, e minimo, lo a sali, gana, è betfax in con un luogo, però manier, c'è stata la intenzione, fuori di comienzo, prometto mi tempo, del Parlamento numero 8, un da cu soga, che era vai proceder, a otorgar a arellano, e se notata pa, Parlamento numero 8, come dice, no, il presupposto non sta autorizzato, non ti un presupposto, vos so messe vai un destajo pubblico, e soga, il Comissione di Evaluazione, a mostrare, es nancua, paranang, inizio, cucut, cucut, non sta duna, arellano tog, explica mi, che logica, il presupposto, autorizzato il proyekto, a qui ta kinan, il lowest bet, a sali kinanang, il highest bet, con la arellano, a sali kinanang, explica mi, che logica, voti un highest bet, dos bet na final, un lowest bet, voti vai escoge, e bet di mas alto, pa bo vai negosia, baji price, pa qui co pa vai un destajo pubblico, lo va escoge, bet di mas bow, mas above, in negosia, con lang baji price, tambe, pa bo escapa, aruba, va escapa nos pueblo, un, un, mas placa, e realiza un proyekto, e a placa co va escapa, lo va pora usé, pa escapa trabou, escapa pensión, di nos rendenang, escapa understand, non nos nota di mas, mesteri a paga, eik, beidraga, va pora escapa, tener cuenta, un pueblo que sta pasando dolor, e necesidad.